Il nuovo piano della viabilità di Cerveteri è congelato fino a data da destinarsi, tutto da rifare per i parcheggi a pagamento. L'amministrazione comunale, infatti, ha annullato la determina relativa alla gestione del controllo della sosta del traffico nelle zone centrali della città. Oltre 260 gli stalli che la scorsa primavera erano stati tinteggiati di blu in Piazza Aldomoro, Piazza dei Tarquini, Via Ricci, Via Piave e Largo Boccetta, Via Sant'Angelo, Via della Necropoli, Via Diaz, Via Settevenepalo e Via Col di Lana. L'affidamento del servizio ad una ditta esterna è stato revocato per un'anomalia nella gara e non è da escludere l'ipotesi che la gestione possa passare direttamente nelle mani della municipalizzata Multiservizi. Ci sembra l'unica soluzione, ha dichiarato il vice sindaco Giuseppe Zito. Non appena si sbroglierà la matassa, il progetto sperimentale della durata di otto mesi verrà avviato, ha concluso. Il costo sarà di un euro l'ora, ma gli automobilisti avranno la possibilità di inserire anche solamente 10 centesimi per pochi minuti di sosta.